Buongiorno ragazzi, oggi ci occupiamo di Eugenio Montale. L'autore lo trovate a pagina 435 della vostra antologia e ci dedicheremo alla scoperta di questo incredibile poeta contemporaneo, quindi già molto molto vicino a noi come età. Vedete che ci stiamo avvicinando sempre di più ai nostri giorni con lo studio della letteratura, eravamo partiti tanto indietro dalla lirica di San Francesco d'Assisi per arrivare fino ai poeti che sono praticamente contemporanei. Ci siamo lasciati l'ultima volta con Ungaretti e adesso proseguiamo con questo importantissimo poeta che tra l'altro è anche stato vincitore del premio Nobel, quindi un riconoscimento a livello internazionale per il suo valore nel campo della letteratura e della scrittura naturalmente. Il testo vi dice che nasce a Genova nel 1896, quindi siamo molto vicini al ventesimo secolo, siamo praticamente appiccicati. È già un autore proiettato verso il futuro, un autore che non ha più nulla a che vedere con quella poesia che avevamo visto di Pascoli e di D'Annunzio. Vi ricordate che ne avevamo parlato? Erano stati due grandissimi innovatori nell'uso della lingua, nelle scelte stilistiche, nell'uso delle figure retoriche. Con Montale andremo molto oltre a tutto questo e sarà proprio un autore che ci avvicinerà alla poesia contemporanea, a quella che è la poesia praticamente dei nostri giorni, che è da un certo punto di vista molto distante da quel tipo di poesia a cui eravamo abituati e di cui avevamo parlato sui banchi di scuola. Il fatto che sia nato a Genova ce lo proietta in una regione, la Liguria, che ha anche una geografia molto particolare. Tutti sarete stati probabilmente al mare in Liguria o avrete fatto qualche camminata nell'entroterra Ligure, tanto più d'estate perché di solito è una regione che si frequenta per andare al mare con la bella stagione, a luglio ed agosto. E quindi avete un'idea di com'è strutturata proprio fisicamente, dal punto di vista, come vi ho detto, geografico la Liguria. È una terra molto particolare perché le spiagge sono ovviamente molto strette come profondità e soprattutto questo è dovuto dal fatto che subito dietro all'Aurelia, che è la strada che praticamente taglia tutta la Liguria, inizia l'Appennino, iniziano prima le colline e poi proprio le montagne che ci portano al confine del Piemonte. Il fatto che ci sia poco spazio e molta montagna fa sì che si crei una situazione geografica un po' caratteristica, molto diversa ad esempio da quella della Toscana o del Lazio e di conseguenza se provate a camminare nell'entroterra, in particolar modo nei periodi caldi, quindi luglio ed agosto, vi accorgerete subito di come è particolare quel paesaggio, secco, brullo, muretti a secco che costeggiano le strade, che si inerpicano su per i terrazzamenti delle montagne, la vegetazione è in parte macchia mediterranea, senza dubbio, anche se poi la vera macchia inizierà un po' oltre la Liguria, però è una vegetazione arsa dal sole, secca, ingiallita, dove nei pomeriggi e nell'ora del caldo soffocante del mezzogiorno si possono sentire i rumori degli animali che sgusciano e sfrusciano in mezzo all'erba e alle foglie secche di questi declivi che portano verso il mare. Quella è un po' l'atmosfera in cui ci dobbiamo calare per poter leggere certe composizioni di Montale, perché l'ambiente naturale è proprio quello, ed è un ambiente molto importante e che si confà al discorso che ci vuole fare lui legato proprio alla poesia. Ecco perché, vi ho detto, è interessante sapere che si è nato a Genova, cioè in territorio Ligure, e che abbia vissuto parte della sua vita naturalmente in questo territorio. Montale viaggerà molto, nel senso che si sposterà in varie città per esigenze lavorative, per esigenze personali e quindi non sarà sempre ancorato alla sua Liguria, ma il suo paesaggio, quello che si ricordava da giovane, rimarrà spesso impresso nelle sue composizioni. Fatto studi di ragioneria, diplomato in ragioneria, anche questa è una caratteristica curiosa, spesso ci si aspetta che i grandi poeti siano dei letterati che abbiano fatto studi umanistici, invece no, il Novecento avrà delle curiose sorprese, come proprio quella di Montale, ci si aspetterebbe un liceo classico a supportare le grandi conoscenze linguistiche di questo personaggio, e invece un ragioniere, come ad esempio ingegnere sarà Carlo Emilio Gadda, un altro grandissimo scrittore del Novecento. Per cui anche qua la scrittura ci sta portando in altre direzioni, e proprio il fatto che sia un ragioniere che sia consapevole di un linguaggio tecnico differente da quello che potrebbe avere uno che ha avuto studi umanistici, darà un'impronta al suo stile completamente differente dagli altri. Probabilmente è stato proprio questo anche un elemento in più per aggiungere caratteristiche alla sua poesia. Partecipa alla Prima Guerra Mondiale, il periodo è quello, ed è uno, questo è molto importante, fra gli intellettuali che firmarono il manifesto antifascista. Il manifesto antifascista sta dopo l'ascesa del fascismo dopo la marcia su Roma del 1922, anche di questo dovreste ricordarvi a proposito delle lezioni di storia, e proprio questa firma gli creerà tanti problemi poi con l'ascesa del fascismo, perché quando diventerà direttore del gabinetto Viesseux, che era una sorta di, immaginiamo una biblioteca molto 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 importante di Firenze, diventerà direttore di questa biblioteca, una carica prestigiosa, un riconoscimento importante per una persona. Pensate che era una biblioteca frequentata negli anni, perché era nata a inizio ottocento, frequentata da personalità importantissime, Leopardi ha frequentato questa biblioteca, Berlioz, Dostoievski, grandissimi scrittori, musicisti, filosofi, Schopenhauer, andava a consultare le pubblicazioni e ha fatto parte proprio anche probabilmente degli iscritti a questa istituzione. Per cui era un incarico assai prestigioso, ma nel 1938 verrà licenziato perché proprio aveva firmato questo manifesto e gli costerà caro, per cui fino alla fine della guerra, al 1945, non potrà più trovare lavoro, impieghi pubblici perché è antifascista, dichiarato antifascista e dovrà vivere di occasioni, anche questa è una parola che ricorrerà in montale. Fu licenziato e poi alla fine della seconda guerra mondiale si trasferì a Milano e a Milano cominciò ad appassionarsi, lo era già perché aveva già anche tra l'altro fatto delle lezioni di canto, era appassionato di canto lirico, frequenterà la scala, il teatro alla scala e scriverà moltissime ad esempio recensioni delle opere che venivano eseguite in questo importantissimo teatro di Milano e scriverà queste recensioni sul Corriere della Sera, quindi diventerà praticamente un giornalista, si dedicherà al giornalismo come lavoro e intanto continuerà a scrivere. Le raccolte importantissime di Montale le trovate sul vostro testo, la prima, Ossi di seppia, vedete 25, fate sempre attenzione come vi avevo già detto per Ungaretti al titolo di queste raccolte, spesso il titolo della poesia o della raccolta di poesie è già molto incisivo, Ossi di seppia, dopo ne parleremo, le occasioni, ecco perché vi ho detto che era una parola importante, e poi trovate ancora citate la bufera e altro, è satura, due termini, soprattutto satura, satura è un termine particolare che rimanda anche alla letteratura latina, però è un ciclo di poesie che non ci interessa nel nostro percorso. Vediamo invece quali sono le caratteristiche proprio tipiche del poetare di Montale. Il capitolo si intitola La poesia del dolore, e sì, è una poesia del dolore, ma non è una poesia leopardiana. Parlammo a suo tempo del pessimismo leopardiano, anche qui rispolverate quello che avevamo detto sui vari tipi di pessimismo e su cosa si intendeva per pessimismo. Con Montale si apre una nuova visione del mondo. Fate attenzione a cosa vi dice il vostro testo. Dice, il male di vivere, cioè la percezione dell'inutilità della vita, viene espresso da Montale. Perché il male di vivere? Beh, pensate al contesto storico in cui siamo calati. Siamo nel periodo durante la prima guerra mondiale. Di certezze ce ne sono molto poche, sia lavorative, sia di vita. Perché la guerra sta portando via le generazioni più giovani. Il male sta circondando la gioventù italiana. E soprattutto dopo una guerra sapete che la ripresa è molto dura. Quindi l'incertezza di questa esistenza viene a riflettersi proprio in queste prime, primissime composizioni di Montale. Ecco perché ci parla del male di vivere e dell'inutilità della vita. Che cosa serve un uomo ad andare in guerra? A farsi ammazzare in guerra? Qual è lo scopo? Lasciamo anche stare la guerra, ma se dovessimo proprio ragionare sul senso della nostra esistenza. Perché esistiamo? Qual è il nostro fine? Cioè dove siamo diretti? Tutto questo non ci è dato sapere. Sono sempre stati interrogativi senza risposta. E un po' ne avevamo già parlato quando avevamo affrontato Pirandello. Pirandello si interrogava spesso anche su questo, sul senso delle cose, sul senso del nostro vivere. Però non era un poeta, era un romanziere, era un autore di teatro, quindi lo ha espresso per certi aspetti in un altro modo. Invece con Montale lo troviamo espresso nella poesia, quindi con un linguaggio completamente differente. Viene espresso il dolore e il senso di smarrimento dell'uomo che sa di non avere più nessuna certezza. Le certezze sono finite. Le grandi certezze della storia, quindi le certezze anche scientifiche, da un certo punto di vista non ci hanno dato la serenità che avrebbero dovuto darci. Le scoperte scientifiche hanno migliorato la vita dell'uomo, ci hanno dato il progresso, ma i grandi interrogativi rimangono senza risposta. E quindi ecco la mancanza delle certezze. Come fare per esprimere tutto questo? Lo fa attraverso una poesia originalissima, fatta di una terminologia nuova da un lato che inserirà all'interno dei suoi testi anche termini tecnici talvolta, presi proprio dal linguaggio tecnico. Parole ricercatissime da un lato e semplicissime dall'altro, quindi ci saranno grandi contrasti nella poesia di Montale, ma soprattutto utilizzerà un modo di creare delle analogie, e ne abbiamo parlato per Pascoli di questa analogia, cioè delle immagini che ci rimandano a qualcos'altro, quindi userà delle analogie trasformandole in una nuova concezione che viene chiamata dai letterati, da chi si occupa della poesia, dello studio della poesia, correlativo-oggettivo. Il correlativo-oggettivo è ancora in dubbio se sia stato forse il primo ad usarlo Montale o T.S. Eliot, però in ogni caso lo si ritrova in entrambi i poeti. Facciamo finta, dato che siamo italiani, che lo abbia inventato Montale, inventato tra virgolette. Che cosa significa correlativo-oggettivo? Significa trovare un'immagine che ci rimanda a qualche cos'altro, un po' come tutte le figure retoriche, no? Però se c'è un oggetto messo all'interno della poesia, immaginiamoci un cavallo che sta morendo dalla fatica, quindi un cavallo distrutto dalla fatica, e abbiamo quest'immagine brutale, terribile, no? Che viene a presentarsi davanti ai nostri occhi leggendo una poesia. Questo cavallo cosa può rappresentare? Beh, può rappresentare tante cose. Può rappresentare la fine della vita, può rappresentare la fine della vita di una vita di sofferenze, può rappresentare il male della vita, che ha fatto sì che quel cavallo stesse per morire proprio in quel modo. Quindi vedete che ci si affacciano alla mente tante soluzioni a quell'immagine, cioè sono delle soluzioni legate ad un oggetto, legate a qualche cosa. Non è una similitudine, non è una metafora e non è neanche un simbolo, perché il cavallo che sta morendo non simboleggia assolutamente nulla. Non è una croce, ad esempio. La croce ha una simbologia rintracciabile, io la posso rimandare a tante cose. Invece quell'immagine non mi rimanda a nulla, sono io che devo interpretarla. E di conseguenza abbiamo un nuovo modo di creare queste immagini assolutamente originale, che parte proprio dalla poesia di Montale e di Elliot dall'altra parte. Quindi abbiamo proprio questa contraposizione. Al poeta non resta dunque che un compito, secondo Mondo Montale, riuscire a esprimere il disagio esistenziale dell'uomo moderno senza però perdersi d'animo. Perché? Perché bisogna lottare. La nostra vita non ha senso. Benissimo. Però intanto un piccolo senso dovremmo trovarlo noi al massimo. E se proprio non riusciamo a trovare un senso, già che siamo qua, dobbiamo arrivare fino in fondo. Questo è il messaggio di Montale. Noi siamo immersi in questo male di vivere, senza risposte, ma proprio perché c'è dobbiamo affrontarlo e cercare di andare avanti, di arrivare alla fine del traguardo, perché l'esistenza ci è stata data e quindi bisogna procedere con la nostra storia. Sono poesie complesse, lo vedremo la prossima volta, e anche molto particolari. Noi ci concentreremo solo su una raccolta. Ossi di seppia. Ricordate quello che vi ho detto sul correlativo oggettivo. Ossi di seppia, in un certo senso, lo rappresenta molto bene. Che cosa sono gli ossi di seppia? Sono questi ossi molto piatti, levigati, che diventano bianchi, che si ritrovano sulle spiagge perché sono levigati dal mare e dalla sabbia. E ci rimandano ovviamente ad un qualche cosa che prima era vivo, che adesso non lo è più, che è stato cancellato dalla storia. Però rimangono gli ossi. Rimangono questi ossi levigati e bianchi sulla spiaggia. Ognuno ci può un po' vedere l'immagine che vuole. Forse ve l'avevo accennato a quell'intervista fatta proprio a Montale, in cui gli si chiedeva che cosa volessero dire alcune sue poesie. E il poeta rispose all'intervistatore dicendo Io le ho scritte. Siete voi che dovete interpretarle. Io sapevo cosa volevo dire. Però la poesia è per tutti. Una volta che esce dalla mia mano diventa un qualche cosa di universale, di pubblico. Di conseguenza interpretatele voi. E così faremo la prossima volta con non chiederci la parola e naturalmente con meriggiare pallido e assorto.